bella a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono cioi stick 26 e oggi siamo qua su grandi per scoprire com'è che si bugga la nonna la nonna si bugga in tutte le modalità e si norma la dead stream però continuando con le modalità inizierà ad essere più difficile a baggare la nonna cioè io il medico per baggare questa nonna l'ho scoperto da lion uno youtuber molto bravo e fa molti generi video comunque va bene iniziamo aspettare caricamento e appena si cosa appena si carica iniziamo fare il procedimento allora noi non dovremmo andare fa dirigerci verso il vaso prenderlo tropparlo che se ne lo facciamo rumore viene la nonna dobbiamo piccarsi dobbiamo piccarci nell'angolino stretto ma proprio all'estremo cioè dell'angolino all'estremo dell'angolino dovremmo fissarci quando ad un arrivo la donna ecco per esempio ora è venuta ora iniziamo a spammare ecco in questo caso non mandata bene scusate oppure raffreddore in questo caso non è andata bene perché dovevo cliccare velocemente ora ci riprovo e vedo se questa volta che funziona ragazzi e se volete dei video sui grammi voglio pure portarvi se volete qua sotto ci stanno i commenti e scrivetemi se li volete ecco qua la nonna ecco qua dobbiamo cliccare velocemente ecco abbiamo bugato la nonna to piatti sto sciabbarabba nota per schifo la bla 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 fai schifo nonna bu questa è la mia terza volta che la baggo e questo il video per come baggare la donna se il video vi è piaciuto lasciate like se non vi siete iscritti iscrivetevi e niente ragazzi ci vediamo in un prossimo video ciao